Alla vigilia della Bright Night 2022 qui al campus del Pionta il Digital Creativity Lab ha già cominciato per questo anno a celebrare la Notte dei Ricercatori con un progetto speciale pensato per i giochi dei più piccoli. Sì, oggi stiamo svolgendo questo laboratorio, giocattoli fantastici e dove trovarli, con attività di tinkering per facilitare lo sviluppo della creatività nei bambini. Ecco, qui nel dipartimento in cui si approfondiscono le scienze della formazione è importante andare anche a fare ricerca su questo? Esatto, puntiamo molto sullo sviluppo di un pensiero computazionale che aiuta ad affrontare i problemi e a risolverli e poi lavoriamo molto anche sulle tecnologie digitali, quindi robotica educativa, video immersivi 360, ma anche un'idea di tecnologia che non è solo digitale ma è anche analogico, quindi tessuti, plastica, legno e le lavorazioni di questi materiali.